Ancora in diretta, Voce delle Chiese continua il suo viaggio, siamo diciamo nella seconda parte della puntata di oggi, continuiamo a parlare di attività, eventi, iniziative, progetti che riguardano anche le nostre chiese. Io do il benvenuto alle nostre ospiti, sarà turn di riforma che conturrà con me questa intervista e le intervistate, Barbara Grill e la pastora Sophie Langenek, delle chiese valdesi e metodiste, potremmo dire valdesi, metodiste, metodista di Milano, perfetto, grazie, quindi grazie per essere qua con noi, ci racconterete di un'iniziativa che riguarda appunto la Chiesa Metodista in collaborazione con un'associazione, Sara, giusto? Sì, esatto, parliamo di un progetto che sta coinvolgendo la Chiesa Metodista di Milano, la Diaconia Valdese e Save the Children, che tutti conoscono e che invece loro ci spiegheranno un po' in che cosa consiste questo progetto e quali sono i suoi obiettivi, innanzitutto, anche come è nata l'idea di questo coinvolgimento della Chiesa Metodista. Io direi che la principale motivazione del progetto sono due numeri, 20.000 minori non accompagnati in Italia, 12.000 solo dal primo di gennaio del 2023, più di 1.300 a Milano. A Milano in questo momento girano per le strade 1.300 ragazzini sempre più piccoli, soprattutto maschi, non hanno completa accoglienza perché il Comune di Milano non riesce più a far fronte all'accoglienza completa, tendenzialmente l'accoglienza di primo livello è di circa 30 giorni e poi i ragazzi e le ragazze dovrebbero trovare una collocazione più definitiva. Questa accoglienza di primo livello comincia a diventare di 45, 60, 90 giorni. Chiaramente il Comune non ce la fa, il Comune di Milano è grande e quindi chiede l'attivazione della rete. E qui spuntiamo noi grazie a Diaconia Valdese che lavorava già con Civico Zero. Civico Zero è un progetto di Save the Children su più città, a Milano è molto grande. Milano e Palermo sono i più grandi, intorno alla stazione di Milano che chiaramente è il capannello e il luogo dove questi ragazzi si danno appuntamento per trovarsi e vivere assieme, perché loro non stanno da soli, si cercano per proteggersi e per vivere per strada in una città grande. Noi abbiamo uno spazio, uno spazio che si chiama spazio aperto, che è uno spazio che da anni, anche grazie all'aiuto dell'Otto per Mille, si popola di attività. Stiamo cercando di riattivarne sempre di più anche dopo la pandemia, lavoriamo in azione sociale anche su altre attività e abbiamo questo spazio libero durante l'estate. Durante l'inverno facciamo con un'altra associazione, facciamo scuola di italiano per ragazzi e minori stranieri. L'estate abbiamo deciso di accogliere la richiesta di Diaconia e di Save the Children e di diventare un Civico Zero allargato, cioè di allargare la possibilità per Civico Zero di Save the Children e di accogliere più ragazzi, circa 20, perché di più è difficile. Ricordiamo che la Chiesa Metodista ha già una realtà molto interculturale, multiculturale, quindi è geneticamente potremmo dire propensa all'accoglienza e a lavorare insieme. Quindi di fatto poi che cosa succede in questo centro? Che cosa fanno questi ragazzini che ricordavate hanno un'età veramente molto bassa, sono poco più dei bambini? Allora, questi ragazzini che hanno tra i 13 e i 16 anni trovano uno spazio di accoglienza, che è uno spazio connotato da due spazi. Il nostro salone è unico, ma per fortuna ha un piccolo divisorio e quindi si è creata una zona riposo, perché comunque sono ragazzi che vivono per strada e arrivano a volte molto stanchi, perché non hanno veramente potuto riposare in uno spazio sicuro e protetto, e trovano questo spazio sicuro e protetto nella zona riposo del salone e nella zona invece di attività trovano dei piccoli tavoli per fare delle attività che non possono essere attività troppo approfondite o attività che si susseguono per più giorni, perché non sappiamo mai se questi ragazzi torneranno il giorno dopo, se potranno tornare, di solito tornano, almeno per i giorni in cui sono seguiti. Da noi nel salone della Chiesa Metodista possono fare delle attività, ricevono qualcosa da mangiare sia come prima colazione che come spuntino poi dell'ora di pranzo. Dico spuntino e non pranzo perché essendo tanti diventa sempre più difficile organizzare il momento del pranzo. I ragazzi sono in questo momento a maggioranza ragazzi che vengono dal Nord Africa e sono tutti maschi, però noi sappiamo dall'esperienza di Save the Children con Civico Zero che ci sono anche ragazze che vivono nelle stesse condizioni e questo spazio che gli viene offerto durante la giornata e anche uno spazio per stare in un luogo protetto, sicuro e fare piccole cose, dipingere o giocare a ping pong, a calcetto, dotazioni che avevamo già per fortuna. Il calcetto naturalmente è il grande... Eh beh sì, sono degli sprazzi di una quotidianità che loro in questo momento non hanno, che però è necessaria per farti rimanere incollato alla realtà. E non... Aggiungo che invece nello spazio di Civico Zero di Milano loro possono, cioè lo spazio originale di Civico Zero di Save the Children, loro possono anche farsi le docce e lavarsi i vestiti, che è una cosa che è necessaria se vivi per strada, perché non te li puoi certo... non hai una valigia per cambiarti. Sara diceva giustamente prima che, insomma, l'accoglienza, l'aiuto, la solidarietà sono degli ambiti di lavoro delle nostre chiese in generale, in particolare la chiesa metodista. Quindi quali sono le altre iniziative che vedono la chiesa metodista lavorare magari in rete con altre associazioni, altri enti? Ma direi, e poi Sofia aiutami se me ne dimentico qualcuna, sicuramente tra le più importanti la collaborazione con Asnada, un'associazione culturale di Milano, che accoglie con educatori e con insegnanti minori stranieri per una scuola d'italiano che dura tutto l'anno, da ottobre a giugno, nel salone di spazio aperto, quindi più pomeriggi a settimana, quattro pomeriggi a settimana e una mattina, e che ci permette di avere un rapporto continuativo con questa associazione, sempre nel salone. L'altra molto importante è sicuramente Breakfast Time, Breakfast Time ormai sono tantissimi anni che viene portata avanti, ci sono più di 40 volontari, ed è sostanzialmente l'attività di colazione ai senza tetto della zona di stazione di Milano, è un anello di circa 5 chilometri, che 3-4 volontari ogni domenica, ogni domenica, 52 settimane durante l'anno, con anche spesso il Natale, portiamo circa tra le 50 e le 70 colazione ad altrettante persone che vivono per strada, non soltanto stranieri, sempre di più anche italiani, appunto una colazione fresca d'estate e calda d'inverdo. E poi naturalmente l'orto sociale sul tetto della nostra chiesa, che coinvolge più età e più persone che provengono appunto da spazi diversi, le cene dal mondo che hanno ricominciato dopo la pandemia, e quindi diamo la possibilità anche in collaborazione con Diaconia Valdese per le persone che arrivano anche con i corridoi umanitari, a proporre le loro proposte gastronomiche del loro paese d'origine e a raccontarci la loro storia e il loro paese e attività più piccole di informazione culturale che attiviamo di volta in volta. Non penso di essermi dimenticata nulla, però se ti viene in mente... Tra l'altro un bel po' di queste attività che Barbara ci ha elencato sono state da esempio e poi replicate in altre comunità, quindi insomma è anche bello che si possa mutualizzare un'iniziativa e che possa diventare un po' un esempio da ripetere. Sono tutte cose che si possono ripetere in modo molto... Certo con un po' di organizzazione, perché richiedono impegno, costanza, organizzazione, ma si possono ripetere. Prendetele come esempio. Quando copiare è una cosa positiva. Abbiamo parlato di interventi sociali, di azioni sociali. Tu sei pastora adesso della Chiesa Metodista di Milano, però in realtà arrivi da un'altra città e hai avuto un'esperienza precedente come pastora della Chiesa Valdese di Torino. Allora ovviamente non si può mettere sui due piatti della bilancia due chiede, sarebbe anche poco simpatico, però sono due realtà diverse. Se tu magari hai incontrato delle differenze tra le due città, tra le due chiese, tra i due modi di essere chiesa, quali sono un po' gli spunti che ci puoi dare rispetto a questo? Ma ne do uno, perché ce ne sono tante di differenze, ma l'azione sociale, quindi quello che in ambito valdese si definisce diaconia, per le chiese metodiste e nel DNA del loro essere chiesa, ma anche della vita dei credenti. E quindi nella nostra Chiesa di Milano, nella Chiesa Metodista di Milano, ogni credente, anche quello che vive una situazione di vita molto precaria e difficile, si sente chiamato all'azione sociale, quindi a fare in prima persona parte del lavoro comunitario, perché Spazio Aperto funzioni. E in piccoli gesti e piccole cose, per esempio essere volontario una domenica per Breakfast Time, nonostante vivi lontano da Milano, nell'Interland, nonostante tu abbia molte difficoltà a sostentarti economicamente, trovi il modo di arrivare in chiesa domenica mattina alle 7, per poter dare una mano al caposquadra e quindi portare queste colazioni ai senza tetto, portare ai senza tetto una parola di riconoscimento, un saluto, ed essere così presenti nell'azione sociale della Chiesa tutta. Questa è un'impostazione che io valuto, magari mi sbaglio, ma è molto caratteristica delle chiese metodiste, e in particolare della Chiesa Metodista di Milano. Bene, quindi possiamo augurare buon lavoro a Sofì, ma anche a Barbara, per queste iniziative. Beh, certo, la speranza sarebbe quella di non dover aver bisogno di aprire i saloni delle nostre chiese per delle situazioni del genere, ma già che purtroppo la realtà è questa, ben venga che lo si faccia. Quindi in bocca al lupo. Continueremo. Grazie. Grazie a voi. Grazie per questa possibilità. Grazie a voi.